Covid-19 Sicilia diventa arancione, firmata l'ordinanza del Ministro della Salute. Ora è ufficiale, da domenica a 31 gennaio la Sicilia è in zona arancione, sono infatti in aria arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, la provincia autonoma di Bolzano. Quanto prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia ha firmato? Le ordinanze andranno in vigore a partire proprio da domenica a 31 gennaio. È una conseguenza dei dati del monitoraggio ISS Ministero della Salute su base settimanale. Tutte le regioni tranne il Molise presentano un indice di trasmissibilità RT puntuale sotto 1. Lo scorso monitoraggio le regioni con RT superiore a 1 erano state 10, per il Molise viene indicato un RT di 1,51, era 1,38. La Sicilia mostra un indice puntuale RT addirittura sotto la valutazione che era stata fatta due giorni fa. Nel complesso la regione avrebbe avuto perfino i numeri per passare in zona gialla, ma questo non poteva avvenire anche perché la classificazione è al limite superiore.